Grazie a tutti La nuova serie di special di Rock Pride TV dedicata interamente alle produzioni underground delle band in cui siamo più affezionati Nella puntata di oggi parliamo dell'ultimo disco degli Hop Sand, Bloody, Twilight and Other Visions Il disco è un'autoproduzione del 2014 e gli Hop Sand sono una trash band salentina in attività dal 2000 In realtà i due membri fondatori, come si legge dalla loro biografia Ilario e Giuseppe provengono da un'altra formazione storica dell'eccese il terremoto Il disco è un disco di puro trash old school che fa riferimento ai grandi nomi del trash come i Creator o i Sodom Un disco nel quale i compromessi non ci sono Il trash fa da protagonista in queste dieci tracce che compongono il disco e che andiamo subito ad ascoltare con il pezzo che mi piace di più di questa produzione e che ho ascoltato diverse volte dal vivo quando ho avuto l'occasione di ascoltare gli Hop Sand on stage A voi, qui su Screams, gli Hop Sand con Kamikaze A voi, qui sui, qui sui, qui sui A voi, qui sui, qui sui, qui sui, qui sui A voi, qui sui, qui sui, qui sui A voi, qui sui, 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 qui su che ha appena pubblicato questo disco, Bloody Twilight and Other Visions, un'autoproduzione di 10 tracce in cui i pezzi che dovete assolutamente ascoltare, World in the Mirror, Bloody Vision, The Seer, fanno riferimento ai capisaldi del trash tra cui Creator e Testament, a mio parere. In attesa di vederli nuovamente on stage, vi consiglio di andarli a cercare su Facebook o comunque sui social network e di procurarvi questo disco e di ascoltarlo con molta attenzione. Nel frattempo guardiamo insieme uno spezzone del loro live all'ultimo Rock Pride Fest. Ci vediamo alla prossima puntata di Screams Voices from the Underground. A voi gli Opsen di Bloody Twilight and Other Visions. Alla prossima puntata di Screams Voices 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 Grazie a tutti